Ed eccoci al secondo esercizio della forma di Jin Jin, ossia i 12 esercizi del monaco Shaolin per trasformare tendine e muscoli. Dunque, arriviamo dal primo, ve lo ricordo che era in questo modo, abbiamo finito la seconda ripresa, ruoto il pollice, vedete, ruoto e incrociando i pollici torno indietro con le mani, vedete, nelle due posizioni. Idealmente i pollici sfiorano le ascelle, quando sono in questa posizione vengo su e ruotando ancora i polsi distendo, ok. Abbiamo quattro forze, quella dalla nuca, queste due e il coccige. Vi ricordo che questi primi tre esercizi si chiamano tendere l'asta, proprio perché dovete immaginare una trazione da qua, dalla nuca, e questa dal coccige che mette dritta la schiena. Facciamo sempre i nostri tre respiri. Nell'ultimo, ecco là, ecco, dovete contrarre, per rimanere bene in questa posizione, contrarre gli addominali e guardare sempre avanti. Nell'ultima, andiamo su in una posizione che ricorda quella della mantide e scendiamo, ecco, da qua, dalle mani a questa altezza, scendiamo anche con i talloni. Perfetto, andiamo giù, riprendiamo la seconda ripresa, ok. Chiudo, sfioro con i pollici, distendo molto bene, sempre le quattro forze, nuca, le due mani e il coccige. Posizionatevi in questo modo, chiudete gli addominali, respirate tre volte e l'ultima, di nuovo, su. Vengo giù, delicatamente, da qua scendo anche con i talloni e ci prepariamo per il prossimo esercizio. Grazie. Grazie.